in molti casi la stessa cinghia trapezoidale che comanda l'alternatore mette in movimento anche la pompa centrifuga del liquido di raffreddamento prima di rispondere a questa affermazione diciamo subito che l'alternatore è un generatore di corrente alternata che poi viene raddrizzata da un raddrizzatore per poi ricaricare la batteria e che è messo in movimento cioè fatto funzionare per produrre corrente attraverso una cinghia trapezoidale che lo collega all'albero motore la cinghia si chiama trapezoidale per il fatto che la sezione della cinghia è a forma di trapezio adesso rispondiamo al quesito e diciamo che la risposta corretta è vero cioè in alcuni casi la stessa cinghia trapezoidale che collega l'alternatore al motore mette in movimento anche la pompa centrifuga del liquido di raffreddamento del motore l'alternatore viene azionato da una o più cinghia trapezoidale la risposta corretta è vero l'alternatore è un generatore di corrente alternata risposta corretta vero si chiama infatti alternatore cioè generatore che produce corrente alternata se l'alternatore guasto si accende una spia rossa situata sul cruscotto esattamente cioè questa spia rossa ha il simbolo della batteria perché segnala che l'alternatore non sta ricaricando la batteria e quindi bisognerà poi capire dov'è il problema la risposta corretta è quindi vero se l'alternatore genera poca corrente è possibile che la cinghia trapezoidale si sia allentata e che quindi non faccia il suo lavoro correttamente e quindi l'alternatore gira a una velocità minore se questa cinghia per esempio slitta perché è allentata la risposta corretta è quindi vero la corrente generata dall'alternatore per essere accumulata dalla batteria deve venire raddrizzata cioè trasformata in corrente continua a bassa tensione la risposta corretta è vero il buon funzionamento dell'alternatore si controlla per mezzo di una spia luminosa apposta sul cruscotto che deve rimanere spenta certamente sì quando il motore in funzione deve rimanere spenta se si accende vuol dire che l'alternatore non sta ricaricando la batteria e quindi bisogna essere consapevoli di questa cosa cioè il veicolo continua a diciamo a funzionare cioè il motore non si arresta per questo motivo se l'alternatore ha una disfunzione però dobbiamo sapere che la batteria non viene ricaricata quindi non avrà più la corrente sufficiente eventualmente per riavviare di nuovo il motore quando noi l'abbiamo arrestato perché non c'è sufficiente ricarica nella batteria la risposta corretta è quindi vero i moderni alternatori hanno incorporato un raddrizzatore che rende continua la corrente in uscita la risposta corretta anche in questo caso è vero l'autista deve verificare periodicamente lo stato di carica dell'alternatore la risposta corretta è naturalmente falso alcuni motori diesel sono privi di alternatore sarebbe impossibile perché ci vuole della corrente elettrica per riavviare il motore e che comunque possa alimentare tutti gli organi che funzionano con la corrente elettrica quindi la risposta corretta è falso nei motori a scoppio o diesel alternatore sostituisce la batteria no perché l'alternatore è un generatore di corrente la batteria è un accumulatore di corrente che fornisce corrente all'occorrenza cioè quando per esempio l'alternatore non funziona quindi falso nei motori a scoppio o diesel l'alternatore fornisce la corrente per il motore mentre la batteria produce quella per le luci e per i servizi è falso se l'alternatore guasto si accende una spia arancione situata sul cruscotto attenzione la spia che si accende sul cruscotto e che ha il simbolo della batteria è di colore rosso non di colore arancione quindi risposta corretta falso quando l'alternatore si guasta il motore si spegne di colpo anche in questo caso la risposta corretta è falso l'alternatore fornisce corrente alternativamente al motore o alla batteria risposta corretta falso in quanto la fornisce alla batteria ma non al motore mediante un pulsante situato sul cruscotto l'autista decide se l'alternatore deve fornire corrente al motore o alla batteria no perché il l'alternatore fornisce corrente solo la batteria e non al motore quindi falso l'alternatore funziona anche a motore spento è falso in quanto viene fatto girare l'alternatore dall'albero motore quindi se il motore spento l'alternatore non funziona quindi risposta corretta falso